Anticipazione il segreto. Domenica 4 ottobre 2020. Ignacio spiega alle sue figlie che Begogna, la loro madre, ebbe una brutta crisi un giorno a causa della sua malattia mentale. Emanuela la sorprese a attaccare Carolina con un grosso paio di forbici. Sono stati i medici poi ad isolarla. Il padre si scusa per aver taciuto per anni, ma credeva che fosse il modo migliore per proteggerle. Arrivano ordini per produrre nuovi container e Urrutia si preoccupa, bisognerà assumere più lavoratori per rispettare i tempi di consegna. Pablo confessa a Don Ignacio che da bambino sognava di essere suo figlio, ma ora sembra un incubo. Adolfo consiglia a Thomas di dimenticare la questione dell'assegno e di non chiedere spiegazioni ad Isabel. Insieme presentano alla Marchesa un rapporto sulla miniera per poter soddisfare le richieste del solo Zabal, ma Isabel non sembra essere troppo interessata all'argomento e delega il compito ai suoi figli. Nella miniera intanto cresce sempre più la complicità tra Thomas e Alicia e il de los Visas, ammira le capacità e l'intelligenza della giovane donna. I tre consiglieri aspettano Mauricio, ma il sindaco dice di avere un impegno. Marta nota che Mattias aveva ragione, il Godoy soffre per la distanza imposta dalla matrona. Il capitano Huertas avverte Mauricio che stanno arrivando giorni difficili. Ci sono diversi scioperi in vista. Grazie a tutti.